La duchessa è volata dall'America a Londra per il matrimonio di Pippa Middleton nel 2017. Secondo quanto riferito, Meghan Markle è rimasta sconvolta dal fatto che Pippa Middleton inizialmente si fosse rifiutata di invitarla al suo matrimonio per paura che potesse rubare la scena, ha affermato un esperto reale. Il motivo è che i genitori di Pippa Middleton hanno espresso preoccupazioni nutrite per la presenza della duchessa del Sussex, secondo il commentatore reale e presentatore di GB News Camilla Tomaini, che ha affermato che ciò ha spinto Pippa a rifiutare prima di invitare Meghan al suo matrimonio nel 2017, scrivendo su The Telegraph, la signora Tomaini ha ricordato che la sorella della principessa Kate, forse temeva di essere messa in ombra dalla ragazza di Harry al suo matrimonio. Contro il parere dei suoi genitori, Pippa alla fine ha deciso di inviare un invito a Meghan alla celebrazione serale per mantenere la pace. Tuttavia, la duchessa ha scelto di non presentarsi alla cerimonia nella chiesa di San Marco, sollevando alcune sopracciglia reali. Secondo una fonte reale, i Sussex non volevano attirare troppa attenzione, e mettere in ombra la coppia di sposini nel loro giorno speciale. Ha fatto un ingresso solo più tardi al ricevimento di nozze nella casa della famiglia Middleton a Bucklebury, in Inghilterra. Secondo quanto riferito, il principe Ferry ha lasciato la cerimonia. È tornato a Londra per un'ora e mezza per andare a prendere Markle e poi un'altra ora e mezza alla tenuta di Middleton per il ricevimento, ha riferito Harper's Bazaar. All'epoca, la relazione tra Ferry e Meghan non era ancora ufficiale, e nota al pubblico. Presentarsi insieme all'evento pubblico avrebbe attirato la stampa e messo in ombra il matrimonio di Pippa con James Matthews. Nel loro libro Finding Freedom, gli esperti Omid Scobie e Caroline Duran hanno affermato che la coppia aveva esitato a partecipare al matrimonio insieme. Tuttavia, quando una storia il giorno del matrimonio ha messo a confronto i sederi di Pippa e Meghan, è stato deciso che Meghan non sarebbe dovuta andare. Gli esperti reali hanno detto nel loro libro. Ferry e Meghan hanno convenuto che non poteva presentarsi in chiesa. A soli 50 metri da una penna multimediale appositamente predisposta. Dopo una storia di copertina così grossolana.